Possiamo avere tutti i mezzi di comunicazione del mondo, ma niente sostituisce lo sguardo e la voce dell'essere umano. Dove siamo? Siamo nel centro pulsante della recitazione, in una sala di doppiaggio. Il doppiaggio è il climax, è la punta dell'iceberg della recitazione. Voglio farvi vedere tecnicamente come avviene il doppiaggio di una scena. Ci sarà un giorno in cui il coraggio degli uomini cederà, in cui abbandoneremo gli amici e spezzeremo ogni legame di fratellanza, ma non è questo il giorno! Questa mia mamma, lei è donna più antica di Cusac, lei è di 43 anni, io amo lei! Ciao, sono Pino Insegno e questo è il mio corso per Best Academy. Be the best!